Promessa mantenuta oggi nell'auditorium Virgilio Argento del palestro Paolo Emiliani Giudici di Gela. Il dirigente scolastico Giovanna Palazzolo ha consegnato i libri in comodato d'uso per le classi prime della scuola media alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. L'iniziativa rappresenta l'epilogo della manifestazione teatrale portata in scena qualche mese dietro all'Eschilo. Il ricavato dell'esibizione del Marchese di Ruvolito infatti è stato destinato all'acquisto di libri, un esempio concreto di cosa sia veramente la buona scuola. Con l'aiuto di vari sponsor che io devo ringraziare è stato unito questo ricavato a un progetto che avevamo a scuola che si chiamava Amico Libro per il quale avevamo accantonato una sommetta. Quindi grazie al consiglio d'istituto, grazie al programma annuale che è stato sistemato in questo modo, abbiamo potuto acquistare i libri direttamente dalle case editrici con uno sconto particolare e questi libri proprio li stiamo consegnando alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Che famiglie sono? Come ci siamo regolati? In pratica abbiamo fatto presentare l'Isee insieme a una richiesta. L'Isee è l'unico strumento che abbiamo a disposizione, però sappiamo bene che nel nostro bacino i nostri ragazzi sono figli dei disoccupati dell'indotto della raffineria e venivano a chiedere continuamente di essere aiutati, sì che abbiamo agguzzato l'ingegno e ci siamo inventati questa commedia che grazie ad Alberto Lo Scalzo, grazie a Monica Bevilacqua e grazie a tutti noi di buona volontà è andata in porto. L'Istituto San Francesco ha altri obiettivi da raggiungere. Noi abbiamo acquistato i libri che valgono soltanto per un anno scolastico, sicché alla fine dell'anno saranno restituiti e potremo accontentare i bambini di prima dell'anno prossimo e così per l'anno ancora, perché il progetto è triennale. Speriamo di non cambiare testi in questo periodo così che ne possano soffruire il tripro dei ragazzi. Una scuola, quella diretta da Giovanna Palazzolo, che si apre concretamente al territorio. Stiamo organizzando dei laboratori pomeridiani di scacchi, di scrittura creativa, aperti a tutto il territorio, cioè a tutti coloro che ne vogliano soffruire, sia bambini che ragazzini. Questo progetto dei laboratori è rivolto anche ai genitori che potranno frequentare gratuitamente, che ho un team di insegnanti volontari che veramente altro che buona scuola è altro che bonus.